Ecco, questa è l'ennesima ricevitoria che ha chiuso qua in zona a Lorenteggio, Piazza Napoli. Un'ecatombe di edicole. Ecco, questo per evidenziare soprattutto la fine di un periodo, il gran bel periodo vissuto negli ultimi 70 anni. Uno sviluppo veloce, mai avvenuto in un milione e più di anni che gli uomini sono sulla terra, che ci ha permesso di avere tutto quasi, sì, arrivando fino ai confini dell'universo. E adesso? E adesso sembra che queste edicole indicano che sia finito il gran bel periodo. Già, non dimenticando che con la guerra in corso tra Russia e Ucraina, che ha coinvolto l'economia del mondo intero, soprattutto con la mancanza o la scarsità di luce, gas, eccetera, per via delle sanzioni contro la Russia, potrebbe riservarci qualcosa ancora di peggiore. Ma come sempre bisogna solo aspettare per sapere. E poi sarà quello che sarà.